We're Orchetti, supportatemi tutti quanti come creatore scrivendo il codice ORCUVERDEGAMER12, tutto attaccato, supportandomi come creatore avrete la possibilità di giocare con me quando gioco con voi iscritti su Fortnite e se volete potrete anche inviarmi una richiesta di amicizia su Epic Games, le accetto a tutti. Il mio ID Epic Games è uguale al codice creatore che potete trovare scritto anche nella descrizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.